Paolo Bormolini, dunque un derby vinto da Nuova Sondio Calcio, quanto vale questa vittoria Paolo? Vale sicuramente più di tre punti, perché è una partita che dà morale e adesso che siamo quasi a Natale vincere questa partita, la prossima, era la cosa essenziale. Un match che possiamo descrivere in che modo, che partita è stata? Primo tempo che ci siamo controllati a vicenda, mentre nel secondo abbiamo spinto leggermente in più noi, quindi infatti è arrivato il gol vittorio, è arrivato il secondo tempo. Raccontaci il tuo rapporto con il calcio in una valle qua di Livigno, dove la vocazione principale è lo sci. Infatti ho iniziato proprio con lo sci, poi grazie a mio papà la passione per il calcio, da lì non ho più smesso. Un DNA familiare? Sì, anche i miei fratelli tutti calcio oramai. E questa passione che coltivi anno dopo anno richiede anche comunque dei sacrifici, insomma non è proprio dietro l'angolo Livigno? No, comunque scendere da Livigno a Sondrio, c'è il suo bel momento di viaggio, poi con la neve, il traffico e tutto, il passo fuori con la chiuso, aumenta notevolmente il tempo. Però la passione alla fine? La passione è più grande sicuramente del viaggio e della rottura di scatole, se possiamo dire.